grazie mille francesca grazie mille a te grazie mille a tutti i partecipanti che stanno dedicandoci del tempo in questa serata quindi repartiamo subito titolo consulenza e monitoraggio clinici a distanza nella locuzione a distanza c'è già intresivamente il concetto di sicurezza sanitaria che è quello che in qualche modo tutti noi oggi a cui tutti noi stiamo lavorando e a cui sta a cuore ma quello che abbiamo capito in questo periodo che per gestire correttamente uno studio clinico uno studio dentistico non basta più solo la sicurezza sanitaria ma credo che voi tutti siate d'accordo che sia necessario anche pensare di organizzare il vostro studio in termini di efficienza economica la presenza di un paziente in studio oggi significa dover igienizzare i locali dover di igienizzare la poltrona eventualmente dover cambiare guanti camici e così via quindi tutto questo per dire che se posso evitare il transito di un paziente in studio sicuramente ho una sorta di riduzione dei costi e per fare questo cosa ci viene in conto la telemedicina la telemedicina è uno strumento che mette quindi sicurezza non solo il paziente perché resta a casa ma anche il il clinico e a tutti gli effetti anche lo staff che cosa ci permette di fare questa telemedicina ci permette di fare una valutazione che indica appunto a distanza ci permette di monitorare un trattamento che abbiamo già avviato ma come dire al tempo stesso ci dà qualcosa in più ci permette di mantenere un contatto sempre con il paziente quindi il rapporto fra lo studio e il paziente cosa che si traduce in qualche modo in una compliance sempre più alta a parte del paziente credo che nella vostra esperienza abbiate notato che quando un paziente deve venire da voi in qualche modo ha più cura a quello che è il vostro il suo la sua spazzatura di dente perché praticamente sa che deve confrontarsi con voi se non gli diciamo che deve confrontarsi con qualcosa in qualche modo deve monitorarlo sicuramente lui starà più attento questo nell'atto più semplice su una igiene magari una compliance significa un'igiene più duratura del tempo ora ho lasciato questa seconda slide che ho tra virgolette rubato a un collega inglese semplicemente perché secondo me il titolo è molto indicativo cioè reshaping dentistry questo perché l'obiettivo del nostra chiacchierata di stasera è proprio quello di rimodellare l'odontoiatria cioè quello che dovremmo fare è trovare delle soluzioni che ci permettono di fare quelle cose che abbiamo fatto fino ad oggi in maniera leggermente diversa ora questa è l'agenda l'agenda sono ho cercato di raggruppare gli argomenti che tratteremo in cinque punti importanti partiremo dallo scenario che ci ha portato a parlare di questa nuova soluzione parleremo di quello che c'è dietro a questa nuova soluzione affronteremo la soluzione stessa che appunto in to go poi lasciata alcuna parte più commerciale perché vorrei che i partecipanti del di questo webinar possono usufruire di un'offerta estremamente interessante e poi chiuderemo con delle conclusioni e alla fine lasceremo lo spazio alle domande allora abbiamo detto partiamo da lo scenario qual è la situazione che cosa è successo per colpa di questo maledetto virus questo covid 19 è successo che molti su di sole sono rimasti chiusi qualcuno lo è ancora i pazienti sono estremamente più riluttanti a prenotare nuove visite fanno fatica andare in studio per cui gli appuntamenti sono stati annullati vengono annullati tuttora i pazienti in cui in questo momento rimangono o sono rimasti senza riferimenti questo ha portato a un come dire una importante diminuzione della complice da parte del paziente e a tutti gli effetti che i pazienti che volevano delle risposte in questo momento non hanno avuto tutto questo che cosa come si ripercuote nella testa del medico il medico come dire sta cercando di capire come prepararsi alla riapertura quando si ripartirà in un maniero estremamente diciamo importante quindi il suo obiettivo sarà a terre nuovi pazienti perché moltemente alla riapertura che avvenuta in questo periodo vi troverete a gestire quelli che sono i trattamenti che hanno già cominciati prima del lockdown però che esattamente saranno quelli vi permetteranno di gestire i prossimi mesi dopo ci sarà da cominciare a cominciare a riattivare un'attività importante per cui l'importante è a tre nuovi pazienti anche nuovi trattamenti ma soprattutto cercare di capire come fornì loro più confidenza di guadagnare quella fiducia che avevamo che avevamo dato loro e che ci eravamo conquistati per cui dovremmo cercare di essere sempre in contatto con con il paziente riducendo la visita in studio solo quando effettivamente è importante quindi ancora nella mente del medio c'è la necessità di capire come ridurre i costi e al tempo stesso rimanere competitivi questo significa tutti effetti cercare di offrire dei trattamenti che saranno sempre più efficienti col tempo quindi cosa dobbiamo cercare di fare noi per ridurre tutte queste la problematica che è molto fuori a causa del virus innanzitutto dobbiamo cercare di pensare ad una prima visita virtuale con i pazienti che non sono in studio ma sono a casa non sono con pazienti che magari sono già nel portafoglio dello studio ma anche con pazienti nuovi e magari potremmo cominciare la comunicazione per la conferma degli appuntamenti attraverso delle procedure online o comunque secondo noi è sempre più importante avere una comunicazione continua il paziente perché ce lo tiene come dire ce lo tiene sempre più vicino a noi ci garantisce quella che che in gergo chiamiamo fidelizzazione il paziente resta fedele al nostro studio e ancora pensare ad un monitoraggio esattamente abbiamo in corso che abbiamo cominciamo a trattare anziché far venire il paziente in studio ma con un monitoraggio da remoto secondo noi è un motivo per ottimizzare ancora l'efficienza economica in studio e a tutti gli effetti come ho detto prima non bisogna pensare a maggio giugno luglio ma bisogna pensare a cominciare a prenotare nuovi trattamenti o nuovi pazienti anche da settembre in poi quando effettivamente forse saremo tornati a una normalità un pochino più vicina a quella che era la situazione di febbraio ora prima di parlare del time to go ho pensato di dare qualche breve cenno di quella che è la tecnologia che ha alle spalle la cosa su cui si basa il time to go che è appunto l'intelligenza artificiale che è senza dubbio uno degli strumenti più digitali degli ultimi anni ora così se provate a pensare secondo voi chi sono i più grandi digitalizzatori di questo venturesimo secolo sicuramente bill gates ma sicuramente steve jobs senza dubbio ahimè questo maledetto virus che ha portato a una forte digitalizzazione in tutti i settori i primi due bill gates steve jobs hanno investito molto nell'intelligenza artificiale perché hanno capito quanto poteva essere importante e noi oggi siamo convinti che per poter sconfiggio per poter affrontare poter gestire meglio certe procedure per colpa di questo maledetto virus servirà di sicuro investire in quella che è l'intelligenza artificiale negli strumenti che sono basati sull'intelligenza artificiale guardate quali sono i più importanti investitori dell'intelligenza artificiale tutti conoscete queste ben amazon microsoft apple facebook e così e così via però non sono solo questi perché oggi l'intelligenza artificiale è alla base della maggior parte delle applicazioni che sono legati al mondo dei trasporti al mondo della comunicazione agli ospedali lo sport la cura della persona le assicurazioni anche in politica e nei governi per cui effettivamente l'uso dell'intelligenza artificiale sempre più diffuso la diffusione significa che è uno strumento che sta diventando sempre più potente adesso che cos'è alla fine questo intervento tutti ne parlano e poi alla fine si fa fatica a capire che cos'è io ho cercato di riassumere in poche in poche frasi a tutti gli effetti è un ramo dell'informatica che permette la programmazione di sistemi hardware software che vengono in qualche modo addestrati per imitare o per comunque rispondere a delle funzioni che sono tipiche dell'essere umano prima fra tutti è sicuramente la percezione visiva il mondo dell'intelligenza artificiale gira fondamentalmente su queste quattro azioni vedete raccogliere dati ovviamente dovrò raccogliere delle informazioni dovrò codificare dovrò acquisire conoscenza di questi dati però poi addestare un sistema che chiameremo reti neurale che poi mi permetterà questo sistema di rilevare di rilevare dei nuovi dati ora per andare un po più sullo specifico per rendere più chiara la cosa guardate quante foto abbiamo fatto a questo bambino nella sua nella sua crescita e soprattutto anche in diversi movimenti quindi sto raccogliendo una serie di foto ripeto momenti diversi della vita e in posizioni completamente diverse ho detto devo acquisire conoscenza cosa faccio io vado a identificare questo bambino con una serie di punti avete qui a sinistra un po di punti identifichiamo le ciglia gli occhi e distanze fra le ciglia il naso la bocca questi punti vado a trasformarle in modelli matematici che a tutti gli effetti mi generano un algoritmo di riconoscimento è quella che appunto è la mia rete neurale in pratica la rete neurale viene addestrata da una serie di dati di ingresso le mie foto codificate con quelle formule matematiche che a un certo punto mi permettono di avere un dato d'uscita quindi una una risposta al riconoscimento di un bambino che sta crescendo grazie non solo ai dati che ho in memoria che quindi ho codificato ma anche i dati che si avvicinano a quei dati che ho in memoria perché effettivamente avviene il riconoscimento visivo grazie a dei modelli matematici ora quali sono a noi però i dati che in qualche modo ci interessano sono quelli relativi alle situazioni dentali noi abbiamo l'algoritmo identico che riesce a rilevare più di 180 situazioni dentali all'interno del cavo orale abbiamo milioni di foto che vanno a analizzare che vanno a acquisire conoscenza su problemi di gengiva su problema di genere su problema di ferite infezioni denti denti erotti denti danneggiati qualsiasi cosa che una fotografia può andare a scovare passatemi il termine all'interno del cavo orale quindi perché oggi è importante la l'intelligenza artificiale semplicemente perché ho detto è basata su percezioni visive mi da quindi un risultato oggettivo un risultato oggettivo che io propongo un paziente ha come immediata conseguenza una una maggiore accettazione e il paziente è soddisfatto di più perché vede con i suoi occhi un dato rilevato sulla sua bocca e quindi effettivamente ha come dire la risposta immediata e l'oggettività della cosa poi se io utilizzo questi strumenti in maniera programmata e sistematica sto andando a standardizzare dei processi ad esempio più banale se facessi utilizzare questo questo tipo di strumento a una persona dedicata in studio che ha il focus su questo tipo di strumento e lascia al medico semplicemente la parte successiva alla prima analisi o primo triage della situazione orale del paziente ho standardizzato un protocollo che mi permetta tutti gli effetti di rischio e dei costi ma come ho detto tanta gente sta investendo nell'intelligenza artificiale perché perché sta diventando sempre più veloce le reti neurali sono addestate sempre con più informazioni quindi riescono a dare sempre più risposte investimenti maggiori portano a costi sempre più ridotti quando vai a utilizzare lo strumento finale riesco sempre di più a personalizzarli dopo vedremo con la possibilità di personalizzare dei protocolli che mi permettono andare a identificare specifiche situazioni e come ho detto data la l'estremo utilizzo l'estremo investimento i risultati le percezioni che hanno seguito un'analisi basata sull'intelligenza artificiale sono sempre più predecibili e questo effettivamente ci porta a dire che dobbiamo sempre stare più attenti agli strumenti basati su questo tipo di soluzioni non solo oggi ma da oggi in poi adesso adesso nel dettaglio di quella che la nostra soluzione dentro perché dobbiamo parlare dentro semplicemente perché vogliamo trovare un modo per richiamare il paziente in studio devo trovare uno strumento una funzione un'opzione un modo di comunicare nuovo per portarmi in studio il paziente quando poi il paziente in studio devo fare in modo che con lui riesca a ricostruire un momento emotivo forte che me lo tenga legato quindi devo fargli vedere qualcosa che lo coinvolga sempre di più dopodiché quando l'ho coinvolto non so se qualcuno di voi ha avuto la possibilità di seguire un web e alla settimana scorsa abbiamo fatto con il dottor rosso lui parlava di dei cruiser i diversi pazienti che fanno il giro di diversi studi per trovare la soluzione che a loro sembra più adatta non dobbiamo rischiare che succeda questa cosa quando il cliente quando il paziente in studio dobbiamo motivarlo dobbiamo eccitarlo con le nostre soluzioni affinché lui si fermi con noi si fermi con voi e quando sei fermato e accettato il trattamento devo coinvolgerlo quotidianamente come magari cercando di seguirlo sempre anche a distanza ora vediamo nello specifico il tento go tento è una suite di software basati sull'intelligenza artificiale ci permette di analizzare diversi momenti in un trattamento si parte da prima il trattamento quindi una valutazione del cavo orale che mi porta a proporre un tipo di trattamento si passa poi attraverso una simulazione di un trattamento quindi quale potrebbe essere il risultato del trattamento che sto andando a proporre al paziente dopodiché vado nella fase del monitoraggio il paziente mi ha accettato il trattamento di qualsiasi tipo io riesco a monitorarlo a distanza scendo nello specifico tento go vital check tento go vital check è una applicazione che mi permette di valutare istantaneamente la condizione orale del paziente la faccio in studio che cosa mi serve sicuramente mi serve una ottima connessione internet perché effettivamente una procedura che richiede un contatto con un server dove c'è il famoso algoritmo di riconoscimento su cui è basata basato sulla intelligenza artificiale quindi è importante che la comunicazione dei dati sia efficiente mi servono degli strumenti che vedete una un supporto per cellulare lo scan box e una fribocca poi mi serve un'applicazione un'applicazione che gira sullo smartphone sia in ambiente ios piuttosto che android e un cruscotto web per il dottore queste sono le cose che mi servono per questo tipo di soluzione ora ho detto che vital check mi permette di acquisire lo stato vitale del paziente eseguo delle scansioni in studio sono ancora in studio in questo momento utilizzando vedete che a sinistra questo questa paziente che ha un supporto un cellulare a fronte di questa scansione interviene l'intelligenza artificiale che crea un report il famoso rapporto un report rapporto oggettivo della condizione orale del paziente che posso condividere il paziente a fronte di questo rapporto ancora l'intelligenza artificiale propone un trattamento questo che effettivamente io poi posso andare a condividere con il paziente questo è quello che succedeva fino ad aprile 2020 a maggio questo mese è stato introdotto la grande novità di questa soluzione che è quello che in qualche modo vorrei che voi apprezzasse molto stasera che è la possibilità di fare questa sorta di valutazione non più in studio perché il paziente non è ancora tornato in studio devo solo dargli uno strumento che me lo faccio tornare in studio però la prima visita diciamo la faccio a distanza quindi questo strumento non utilizzerò più il mio paziente non avrà a caso il supporto per il giurale per un cellulare un cellulare che permette di fare le foto faccio delle foto queste foto vanno dentro un cruscotto il cruscotto del dottore il dottore le può analizzare le può analizzare le può guardare poi avvalendosi del supporto dell'intelligenza artificiale può anche in qualche modo proporre dei trattamenti credo che la cosa più importante per capirvi quanto è potente allo stesso tempo quanto sia facile utilizzare questo strumento e farvelo vedere ho pensato proprio di fare una dimostrazione così dal vivo qui ho messo due link il primo era un video credo che la mia collega abbia caricato questo video all'interno del del di questo web se non è disponibile oggi ve lo mandiamo direi di non è un video semplicemente fa vedere come funziona però io in questo momento sono più orientato a farvi vedere come funziona l'applicazione il virtual check vediamolo insieme andiamo su un account demo questo è il cruscotto che compare al dottore nel momento cui accede allo strumento vital check qui sulla sinistra vedete che c'è scritto impostazioni sotto impostazioni c'è un'opzione che si chiama controllo virtuale qui dentro c'è un link questo che io posso utilizzare per fare qualsiasi tipo di comunicazione col paziente tanto lo posso personalizzare qui posso iscriverci avevo già fatto prima webinar 27 maggio mettiamo sul 2020 con tanti partecipanti salvo questo copio questo link questo ripeto è un link che mi fa atterrare su una pagina web la copio qui ed è questo quindi virtual 7 maggio 2020 che cos'è questo questo è un link ripeto che voi potete utilizzare ovunque che sia attraverso una comunicazione per email che sia attraverso un messaggio whatsapp se whatsapp che sia che so un link che voi caricato sul vostro web su questa pagina web oppure se volete fare una campagna anche su facebook per raggiungere i vostri contatti mettete questo link affinché il paziente ci possa arrivare e che cosa fa il paziente qui c'è un filmatino un filmatino è un tutorial che vi faccio vedere perché effettivamente è molto indicativo di quello che deve fare il paziente il paziente non è abbandonato il paziente sa sicuramente quello che deve fare perché segue questo tutorial quindi anche in questo caso devo utilizzare uno strumento nuovo però lo fa grazie a un video che lo guida in quello che deve fare qui c'è una parte scritta che ti dice quanto è importante la valse le mani questa cosa deve fare la il paziente deve semplicemente predisporso per farsi delle foto in maniera corretta quindi la prima foto se la farà nella parte frontale ovviamente dice di aprire quanto più possibile la bocca le successive foto sono lato destro piuttosto che lato sinistro vado avanti lato sinistro e le stesse foto poi vedono a fare la parte occlusale superiore piuttosto che inferiore una volta che ha visto tutorial può cominciare a fare quello che deve fare ovvero inserisce sui dati metto un nome qualunque alle potremmo anche fare in diretta alessandro verdi data di nascita 75 marzo 12 marzo indizio ipostrettonica alessandro punto verdi mettiamoci delle cose un alessandro vetti vero gmail.com poi sono in italia 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 un codice postale 59 100 quello della mia città accetto il consenso informato e continuo a questo punto qui è il paziente che dice il motivo per cui sto cercando di mettermi in contatto col dottore mario dottore ho un problema nella zona inferiore della bocca ho un dolore a destra in bocca vado avanti e carico le foto qui prendo le foto che avevo preparato faccio vedere così mettiamo 1020 webinar casa demo questa è la frontale questa è la laterale sinistra questa scusa questa laterale destra avanti l'occlusale e l'occlusale invia a questo punto arriva nel cruscotto del dottore il nuovo paziente abbiamo detto che l'alessandro verdi gli esami alessandro verdi abbiamo appena fatto 18 57 27 05 in questo momento sta intervenendo la l'intelligenza artificiale sta facendo il suo il suo momento di raccolta dati analisi la rete neurale sta analizzando la bocca dopodiché crea un report la cosa estremamente immediata che vorrei che vi arrivasse fin da subito oggi che questo è uno strumento semplice da utilizzare in questo magari mentre aspettiamo che questo si carichi ci vuole circa 3 4 minuti prendiamo un altro già fatto prendiamo i filtri che cosa fa l'intelligenza artificiale l'intelligenza artificiale va a analizzarmi tre aree dentro della bocca l'allineamento dei denti la salute gengivale e la salute dentale a fronte di queste cinque foto che ho fatto le mie cinque foto le ha creato questo rapporto identificato alcune situazioni gravi sono quelle con il rosso alcune situazioni moderati quelle con il giallo alcune sane sono quelle verdi per esempio andiamo a vedere quelle rosse che sono quelle su cui vogliamo qualche modo porre la sua attenzione l'affollamento superiore effettivamente cosa fa il mio strumento mi associa la foto che ho fatto affollamento superiore al diciamo al trattamento da da gestire cioè al problema dov'è che si è verificato quindi il paziente avrà la spiegazione di che cos'è l'affollamento superiore e vedrà il problema associato alla sua bocca perché io questo report qui lo posso condividere col paziente il pazzo che lo fa tutto effettivamente per questioni di tempo non le vediamo tutte però il passo successivo ancora cosa succede a fronte dell'analisi la mia intelligenza artificiale mi propone un trattamento trattamento che può essere per il caso di allenamenti dentali scusate per il caso di allenamento dei denti il trattamento gli allenatori per i premi sotto gengivale magari una pulizia piuttosto che una generale un problema di uso dei denti piuttosto che lo sbiancamento io posso condividere questo rapporto il mio paziente tutto in parte perché io la possibilità di togliere delle cose ma non voglio gestire con con il paziente magari in questo caso non saprei potrei togliere gli affollamenti che portano all'allenamento dei denti quindi con il con il morso incrociato morso aperto per cui mi toglie totalmente la parte che riguarda all'allenamento mi rimane solo la salute gengivale e la salute dentale qui c'è un condivido di rapporto il paziente francesco la base in questo caso con un oggetto e posso anche qui c'ho dei tempi già pronti cioè qui per esempio il generale sbiancamento ho già nel tempo della mail già pronta e la posso mandare al al paziente quindi effettivamente sto usando uno strumento in maniera estremamente semplice ora vedo qui torniamo sugli esami magari nel frattempo è arrivato alessandro verdi analisi aggiorna aggiorna alessandro verdi sta ancora facendo analisi comunque ci vorrà ancora qualche minuto alla fine quello che viene fuori è questo e questo è un modo semplice per arrivare ai pazienti a distanza ho usato torno sulla presentazione ho usato semplicemente un link dentro un software dentro una una pagina web mi permette di raggiungere qualsiasi paziente su un paziente esistente piuttosto che un paziente nuovo ora che cosa è il vantaggio di questa di questa soluzione come ho detto un rapporto oggettivo della intelligenza artificiale che mi ha fatto una foto della condizione orale come sempre ho ancora un trattamento che è legato alle foto che ho visto quindi ho come dire una comunicazione trasparente per il trattamento questo mi porta sicuramente all'incremento della compliance a questo punto io vorrei inserire un sondaggio un sondaggio al quale vorrei che rispondeste avvio dovrebbe apparirvi un sondaggio sulla vostra pagina in questo momento a cui vorrei semplicemente rispondeste perché ci piacerebbe valutare questa cosa insieme vi ringrazio tantissimo perché vediamo state rispondendo numerosi e questa volta per noi è questa cosa non è estremamente importante il sondaggio appunto quanto sei disposto a investire per allargare la tua il tuo network in studio il 50 per cento ha votato per me sarebbe bello se votasse tutti altrimenti faccio passare ancora qualche secondo poi lo chiudo e vediamo risultato insieme ok lo chiudiamo francesco scusa se ti interrompo visto che poi facciamo una sessione di domande alla fine però c'è un dottore il dottor giovanni che chiede una specifica riferita alla domanda del sondaggio al mese al giorno all'anno quanto saresti disposto al mese grazie francesco nel frattempo è arrivato anche il repo di alessandro verdi credo che non lo vedete in questo momento perché ok chiudo qui il sondaggio siamo al 63 per cento lo chiudo e a questo punto vedo che il 50 per cento di chi ha risposto risponde non vedete in questo momento il risultato circa 50 per cento risponde non saprei quindi circa il 30 mille euro il 21 per cento 200 euro ed ecco quindi quello che noi abbiamo pensato visto che vi abbiamo coinvolto in questa nostra in questa nostra serata ecco qui questa è la nostra idea abbiamo pensato di offrire questa funzione ripeto una funzione che voi potete utilizzare per una vostra campagna cioè la cosa più semplice che vi penso che vorrei proporvi è pensate al vostro database lo vedete il risultato scusate Francesca mi guardi se qualcuno mi risponde mi dice ok vediamo il risultato nessuno sta scrivendo niente però sì 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 lo vedono il risultato il sondaggio si vede quindi dicevo una cosa semplicissima pensate al vostro database facciamo un esempio semplicissimo pensiamo che possiate raggiungere con questo link con questa possibilità di contattare dei pazienti un database di mille pazienti ipotizziamo che vi rispondo al 10 per cento cento persone cento persone che vi chiedono qualsiasi cosa che vi chiedono che ne so se sono idonei per fare uno sbiancamento se sono idonei per fare un trattamento con gli allenatori trasparenti qualsiasi cosa se a fronte di questo 200 euro in un mese ripeto un mese trovate un servizio al consumo vi torna indietro una cura calanale piuttosto che uno sbiancamento piuttosto che un igiene piuttosto che un caso di ortodonzia invisibile noi pensiamo sinceramente che questi 200 euro sono veramente un buon investimento per tornare a quello che si diceva all'inizio cioè per dire ok sto mettendo in sicurezza economica il mio studio non ho ancora fatto mie nessuno e soprattutto se mi viene qualcuno in studio so perfettamente il motivo per cui sta venendo in studio quindi so il tempo che devo dedicargli so le persone che mi servono per seguirlo so dove lo devo mettere a sedere perché effettivamente ho fatto un triage iniziale che mi pilota e mi guida in quello che devo fare poi quando arrivi al paziente in studio questo è un pensiero che poi vediamo magari alla fine cosa vi portate a casa diciamo così ora passiamo al secondo strumento abbiamo detto MySmile questo è un'applicazione di simulazione è una simulazione realistica del sorriso del paziente durante e dopo il trattamento Francesco ti nascondo il sondaggio ah sì grazie scusa perché effettivamente sennò loro non vedono ok dovreste a questo punto rivedere la nostra slide dicevo il secondo punto è MySmile è uno strumento di simulazione come abbiamo detto dobbiamo creare un momento emotivo con il paziente in studio molti di voi magari hanno lo scanner entorale alcuni di scanner entorale hanno delle applicazioni che permettono di simulare i trattamenti far vedere delle cose al vostro paziente per cui questo potrebbe essere l'alternativa a uno scanner che non ha ovviamente lo stesso grado di investimento in questo caso cosa serve? serve una connessione internet una fribocca e un'applicazione che gira a tutti gli effetti su una piattaforma iOS ora vi faccio vedere visto che non riesco a farvi vedere in questo momento come funziona sull'iPad perché in questo momento non è così semplice farvelo vedere attraverso un webinar ho messo delle slide abbiamo detto che cosa fa questa applicazione fa una simulazione realistica del trattamento in questo caso parliamo di ortodonzia posso far vedere al paziente come apparirebbe il suo sorriso con degli allenatori in metallo scusate dei brackets in metallo dei brackets in ceramica piuttosto che degli allenatori quindi il paziente vede il suo volto il suo sorriso con diversi tipi di apparecchi ma questa applicazione fa di più non solo fa vedere come apparirebbe il suo sorriso realistico con questi tipi di apparecchi ma fa anche una simulazione realistica del trattamento ovvero posso far vedere al paziente come apparirebbe la sua bocca a fine del trattamento quindi inizio e dopo qui ancora ci sarebbe un video non so Francesca rispondi un attimo siamo riusciti a caricargli questi video e li mandiamo ai partecipanti li mandiamo li mandiamo ok perfetto vi manderemo un video che vi fa vedere cosa succede sull'iPad a fronte di questa applicazione l'applicazione simula diversi trattamenti e simula il risultato finale ripeto è uno strumento marketing che permette di come dire di coinvolgere sempre più il paziente di aumentare la sua appunto compliance di farlo di tenere lo stesso a noi questo è il nostro concetto per cui qual è il vantaggio più importante sicuramente è uno strumento nuovo originale innovativo è come dire il mio scopo è portarlo ad accettare il trattamento quindi a fronte di una simulazione di quello che può succedere nella sua bocca il paziente si sente molto più motivato ed è sempre molto più propenso ad accettare un trattamento da me poi si sta confrontando con uno studio che è tecnologicamente avanzato sicuramente a lui fa più piacere che andare da uno che effettivamente non ha questi strumenti se ci interfacciamo con dei magari pazienti anche giovani piuttosto che comunque orientati alla tecnologia questi strumenti fanno molta presa su di loro l'ultima soluzione è il monitoraggio monitoraggio a questo punto abbiamo detto devo decidere il trattamento che devo fare rimuovo il trattamento e vado a questo punto a monitorarlo monitoraggio vedete ci sono due soluzioni monitoring e smile guard fanno la stessa cosa soltanto in momenti diversi ovvero il monitoring mi monitora il trattamento durante la sua fase lo smile guard mi va a monitorare la stabilità del risultato raggiunto quindi uno è durante il trattamento l'altro post trattamento alla fine del trattamento che cosa mi serve in questo caso? mi serve ancora la connessione mi spiace dovelo ripetere sempre però queste foto che vengono fatte su smartphone piuttosto che su attraverso web comunque è importante che navighino su connessioni che siano abbastanza buone semplicemente perché c'è di mezzo un algoritmo che deve viaggiare deve andare bene l'intelligenza artificiale lavora solo bene se riceve dati importanti per farvi capire se effettivamente nel caso avete visto precedentemente l'intelligenza artificiale non è in grado di analizzare il dato che riceve dirà dato non disponibile errore ci segnerà che effettivamente è stato un problema nella maggior parte dei casi la problematica è legata o a una cattiva connessione oppure a delle foto fatte semplicemente male vi dicevo in questo caso cosa serve? serve la connessione fatta bene un supporto per il telefono un apri bocca serve poi un'applicazione e poi un cruscotto web da parte del dottore dove può analizzare le foto che riceve ora l'applicazione è molto semplice anche in questo caso ho lasciato una parte demo che effettivamente vorrei condividere con voi semplicemente perché per attivare un paziente nuovo bastano da 20 e 3 mosse una volta che il dottore si è che lo abbiamo registrato ha creato il suo account accede sul cruscotto web deve fare solo tre cose creare il suo paziente che vuole seguire scegliere il trattamento che vuole monitorare e assegnargli un protocollo sono tre pulsanti da premere il tutto viene fatto in pochissimi minuti e poi si avvia una procedura automatica dove effettivamente il paziente è monitorato è coinvolto sa che lo sta seguendo un medico da remoto perché quello che lui fa sul suo smartphone va direttamente nel cruscotto web del dottore il dottore può analizzare non lo farà in maniera contestuale perché effettivamente si avvale di un protocollo che ha settato delle risposte automatici per cui il paziente questo per esempio questa videata fa riferimento al caso di allilatori perché inizialmente Dental Monitoring che è l'azienda che ha prodotto questo tipo di soluzione lavorava con gli ortodontisti e poi siamo arrivati a gestire l'ortodonzia invisibile l'applicazione quindi inizialmente cosa faceva? era un protocollo di monitoraggio del trattamento ortodontico con gli allenatori trasparenti quindi l'applicazione mi diceva ok sei pronto per passare all'allenatore successivo no non sei pronto non tiene ancora una settimana l'allenatore che sta usando in questo momento perché vedo che non fitta ancora perfettamente oppure ti è saltato un attacco devi tornare in studio per fartelo rimettere perché effettivamente era un monitoraggio del trattamento e anche in questo caso perché è importante perché lo vado a richiamare in studio il paziente solo se ho un problema altrimenti ottimizzo il tempo della mia poltrona ottimizzo la mia agenda perché effettivamente il paziente è monitorato senza essere presente la cosa interessante di questo tipo di associazione è che come ho detto all'inizio è coinvolto anche il team in questo caso se l'applicazione mi risponde prendi un appuntamento e vai in studio automaticamente nel cruscotto il team cioè la segretaria piuttosto che un assistente vede qual è l'azione da fare l'azione da fare è fissare l'appuntamento perché si è staccato un engager si è staccato un attacco per cui sa quando programmare l'appuntamento e sa il motivo per cui verrà il paziente in studio ecco la grande novità di questo periodo il monitoraggio di trattamenti che facciamo conto che erano cominciati prima di questo problema legato al covid oggi scusate fino ad aprile si faceva i pazienti ricevevano delle notifiche direttamente dal software quindi effettivamente si faceva intervenire l'intelligenza artificiale per dare risposte al paziente oggi abbiamo pensato visto che non tutti hanno il supporto per il cellulare però l'applicazione se la possono scaricare ci possono mandare delle foto con degli apri bocca piuttosto con delle dita piuttosto che aiutandosi con altri strumenti per far vedere quello che c'è nel camorale abbiamo pensato di utilizzare uno strumento nuovo uno strumento nuovo che è il monitor in light che cosa fa il monitor in light fa la stessa cosa di quello che faceva il monitor in full normale quella differenza è questa volta è il dottore che deve intervenire personalmente sul singolo caso quindi col monitor in light ho semplicemente strutturato la comunicazione con il paziente perché il dottore riceverà delle foto che adesso vediamo con la demo e a quel punto deve rispondere su quello che vede non dirà più l'intelligenza artificiale c'è un problema di infiammazione o c'è un allenatore che non calza ma questa cosa dovrà dire al dottore il dottore vedrà le sue foto non le vedrà come dire la cosa che si perde in questo momento è la continuità della comunicazione perché non c'è una risposta diretta da parte dell'applicazione sullo smartphone però il dottore che magari in periodi cadenzati magari la sera quando ha finito di lavorare oppure nella pausa pranzo può andare a controllare se effettivamente sono arrivate le foto e può dare delle risposte al suo paziente io anche questa cosa vorrei farvela vedere anche in questo caso c'è un video che per esigenza di tempo non ve lo faccio vedere ma ve lo manderemo però vorrei far vedere come funziona il then to go ho detto che è molto semplice vi faccio vedere il monitor in light così per darvi un'indicazione su quello che è il caso semplice in questo caso potenti monitorati in questo caso qui è in light ecco il dottore riceve dal suo paziente delle foto in questo caso ho usato vedete qui ovviamente è un caso o demo per cui il paziente qui ci sono le singole scansioni che ha fatto a cadenza il 20 di marzo la foto la vedete qui a sinistra poi il 23 di marzo dopodiché 15 da aprire qui c'è il paziente che si è fatto le foto con diverse soluzioni qui c'è la fibocca dell'ivocar qui c'è la fibocca quello nostro se no c'è la possibilità di visualizzare le foto con semplicemente con le avrendosi delle dita però quello che fa il light è semplicemente questo acquisisce delle foto poi il dottore che deve analizzarle la cosa positiva è che le foto sono in parallelo cioè nel senso io cliccando qui sulla singola foto le foto destra e sinistra si posizionano sullo stesso sulla stessa diciamo visualizzazione poi il dottore che clicca qui send with a note ovviamente questo è un un prendiamo una cosa più di più che ci faccia vedere qualcosa comunque clicco qui sopra magari devo dare delle istruzioni al paziente apre la mia foto oppela magari metto un quadrato qui potrei avere i problemi di qualsiasi cosa ho evidenziato qualche cosa qui magari metto del testo problema opera scusate punto testo punto da analizzare ok e qui una volta che ho fatto questo scriverò al mio paziente attenzione perché dentro il quadrato c'è qualcosa da vedere c'è qualcosa da analizzare mando il messaggio al paziente analizziamo in studio una che so rottura del dente nel riquadro per cui magari inviterò inviterò convocherò il paziente in studio questo messaggio viene dal paziente e il paziente riceve la sua applicazione quindi è una comunicazione che non più immediata perché il dottore deve intervenire e il paziente aspetta la risposta del suo cellulare però in un modo questo è la comunicazione questo è quello che avviene ripeto quando facciamo un monitor in light se scendiamo un paziente che invece è monitorato con il servizio quello normale quello che si chiama pull questa volta le istruzioni da parte del paziente arrivano dall'applicazione per cui in questo caso sto monitorando un caso di ortodonzia invisibile vediamo che cosa che cosa che tipo di istruzione ha ricevuto il paziente a fronte dell'ultima scansione c'è una piccola non corretta calzata in corrispondenza del dente 11, 12, 13 e comunque c'è il generale più che soddisfacente quindi effettivamente questa è la comunicazione che riceve in automatico il nostro paziente a fronte di un protocollo che ho dettato qui ci sono una serie di protocolli ora il discorso del protocollo ve lo faccio in italiano perché effettivamente magari si legge meglio per tutti noi protocolli che cosa sono protocolli? protocolli sono semplicemente come dire le istruzioni che do all'intelligenza artificiale in questo caso vedete qui sotto ho parametri delle notifiche cosa posso andare a analizzare? parlavamo prima che ho oltre 180 situazioni del cavo orale che posso analizzare grazie a DENT2GO negli allineatori per esempio se sto seguendo un caso di ortogonzia con gli allenatori invisibili posso andare a vedere ogni singolo aspetto allenatore problemi di disallinamento problemi di disallinamento significativo questo riguarda il follow up piuttosto che scollamento un ausiliario cioè tutto quello che può fare tutto quello che c'è qui che effettivamente è la parte che poi diventerà più corposa quando vorremmo andare a personalizzare qualcosa che io dico sempre intanto cominciamo con la base il protocollo è già pronto devo semplicemente andare in esecuzione del protocollo perché non devo fare nient'altro poi quando avrò acquisito confidenza su questi tipi di strumenti potrò come dire cominciare a fare qualcosa in più ma inizialmente è proprio immediato io ho paziente paziente esce da qui paziente faccio nuovo paziente metto il solito Alessandro l'avevamo detto Verdi non me la ricordo però mettiamo una a caso non importa semplicemente di farvi vedere cosa c'è da fare metto la mail alessandro punto Verdi chiocciola gmail.com in modo telefonico e qui c'ho lo studio verso il quale è in carico il mio paziente qui c'ho una cosa importante per fare le opzionali questa mail secondaria che è la mail che deve essere indicata quando il paziente in qualche modo in qualche modo quando il paziente è minorenne per cui vogliamo avvertire anche i genitori metto un indirizzo del genitore e poi qui per adesso lo defleggo ho creato il paziente a questo punto su questo paziente devo semplicemente dirgli avvia il monitoraggio secondo pulsante da inserire scelgo quale monitoraggio assegnare al mio paziente il light se voglio solo strutturare la comunicazione voglio fare io come medico le informazioni precise da dare al paziente il photomoridion è quello invece che mi permette all'intelligenza artificiale di intervenire e di dare risposte immediate al paziente lo smile guard è quello che non riguarda più niente il discorso della ortodonzia ma è semplicemente un'analisi del cavorale in termini di igiene se ho fatto un trattamento implantale magari voglio verificare se ho delle infiammazioni per implantare oppure ho fatto un trattamento prodontale per cui in questo caso voglio controllare se effettivamente la coagione sta andando nel verso giusto l'ultimo invece è quello più complesso diciamo il primo che era nato in questo mondo semplicemente perché è quello che riguarda la ortodonzia con quella standard quella classica con i fili e con i brackets dicevo seleziono il tipo di monitoraggio facciamo un trattamento alinea liner con questo lasciamo senza nessun trattamento adesso sto seguendo solo la mascella ho assegnato il protocollo che avevo visto prima inizio a questo punto se clicco qui invio il codice al paziente per cominciare il monitoraggio e a questo punto non devo fare più niente comincio il monitoraggio riceverò qui nel timeline tutto quello che è il rapporto che fa il diciamo il dottore il medico e il paziente e qui arrivano le istruzioni le istruzioni che sono anche le istruzioni per lo staff come dicevo prima se in questa timeline mi arrivano delle delle istruzioni che mi dicono guardia si è rotto l'allineatore in corrispondenza del 46 effettivamente io so che devo questo qua non c'è nemmeno bisogno di richiamare il dottore però posso andare come istruzione al mio staff ordinate per il paziente Alessandro Verdi un duplicato dell'alliner 46 perché si è rotto basta non devo fare nient'altro per cui anche qui tornando sulla presentazione vedo che i vantaggi siano immediati con uno strumento di monitoraggio remoto ho sicuramente una miglior cura del paziente il paziente è come dire ha ottimizzato i tempi ha ottimizzato i modi sa che è sempre seguito da qualcuno si sente sempre più coinvolto e soprattutto se c'è qualcuno che mi segue in maniera sistematica sicuramente avrò un trattamento che verrà ridotto nel tempo perché c'è una macchina che ogni settimana mi controlla come sta andando il trattamento e cosa vuol dire questo? a tutti gli effetti vuol dire sto ottimizzando il tempo alla poltrona e adesso ancora vorrei invitarvi a rispondere a un secondo sondaggio spero che vediate il sondaggio è legato a se effettivamente vi siete fatti ma un'idea di quanto costa il vostro il vostro la vostra poltrona allora anche qui come prima quando arrivo al circa al 60% mi interrompo e condivido il risultato ok siamo intorno al 50% grazie tanto vedo che siete ancora molto numerosi e state rispondendo quindi sono contento perché sta risultando estremamente interattiva il vostro coinvolgimento ok mi fermo chiudi e condivido ditemi se vedete il risultato il risultato viene circa il 57% di voi ha risposto che è circa 100 euro la tariffa oraria della vostra poltrona posso avere un cenno che mi dica che vedete il risultato assolutamente sì si vede perfetto ok a questo punto nascondi così li vedete la mia presentazione coppola ecco qui ad oggi c'è la nostra idea abbiamo pensato di offrirvi il monitoraggio a 7 euro al mese per ogni paziente questo significa che per un anno 7 euro per 12 fa 84 euro il monitoraggio di un paziente per un anno costerebbe costerebbe meno di un'ora della vostra poltrona noi siamo quasi convinti che questa sia ancora ancora ripeterò ancora una ottima opportunità per mettere in sicurezza economica lo studio ripeto monitoro il paziente lo faccio venire in studio quando è veramente necessario e conosco il motivo per cui lui viene in studio per cui posso organizzare al meglio il mio la mia agenda quindi per entrare per essere più più trasparenti possibili abbiamo pensato di condividere anche il listino come vedete abbiamo messo il listino dell'allineatore scusate del cicletrat della della di bocca e dello scan to go che è il supporto per il il cellulare lo scan to go costa il listino 49 euro le apri bocca costano 4 euro e 90 e poi abbiamo i servizi servizi servizio vital check virtual check che hanno delle fee mensili fino a 200 scansioni 299 euro oltre 200 scansioni 549 e poi così via il my smile ancora è l'applicazione che vi permette di simulare gli apparecchi piuttosto che il risultato finale anche qui film mensile 259 per 200 scansioni per 250 scansioni scusate se invece questo vale sia per gli apparecchi piuttosto che per il risultato del trattamento se invece uno pensa di prendere il pacchetto completo che fa sia l'apparecchio piuttosto che il risultato finale è 399 euro per 200 scansioni poi si passa al taglio successivo e poi c'è il monitoraggio abbiamo detto che il light che è quello che non prevede l'intervento dell'intelligenza artificiale ha un listino di 6 euro l'altro invece è quello che richiede l'intervento dell'intelligenza artificiale è 9,90 poi c'è quest'altro che è il 3D che è quello legato alla ortodonzia classica 15,90 sempre mensile per paziente e lo smile guard che è invece quello che riguarda il monitoraggio del risultato finale ora per voi che avete partecipato abbiamo pensato a questo noi vogliamo come ho detto il nostro obiettivo è parlare di efficienza e di sicurezza economica questo è uno strumento che secondo noi questi strumenti e soprattutto quello che prevede la consulenza virtuale a distanza è uno strumento che in questo momento possa essere veramente utile potevamo dire ok visto che secondo noi è molto utile potevamo pensare anziché diminuire il prezzo magari incrementarlo perché andiamo contro un'esigenza che voi avete il nostro obiettivo invece è farvelo provare farvi capire quanto può essere utile quanto può essere vantaggioso riuscire ad arrivare attraverso una campagna attraverso una comunicazione diretta io come ho detto prima l'esempio più classico pensate al vostro database pensate al vostro database dove ci saranno un sacco di pazienti di cui avete l'indirizzo di posta elettronica piuttosto che il cellulare attraverso un che ne so un semplice invio di whatsapp di quel link il paziente può subito mettersi in contatto con voi e lo fa in maniera anche come dire smart in maniera simpatica in maniera innovativa si fa delle fatte ve le manda e subito si costruisce un'interazione tra il paziente e il medico ripeto velocemente per per concludere per andare verso le conclusioni lo scan box da 49 costa 34 euro la free book a 3,40 euro la somma circa 38 euro così ancora buttata lì così 38 euro non credete che è un diciamo un importo che possa essere omaggiato all'interno di qualsiasi trattamento che sia un trattamento con gli allenatori che sia un trattamento di impianti che sia un trattamento prodontale 38 euro credo che sia veramente come dire qualcosa che non deve andare in carico al paziente ma una cosa che voi potete omaggiare tranquillamente al vostro paziente per ripilogare la prima opzione è quella di aveva detto circa 200 euro sono 209 euro costo mensile fino a 200 scansioni qui vi ho sottolineato una cosa che per noi è fondamentale questi sono tutti i servizi al consumo ovvero parte la fattura parte il pagamento solo nel momento in cui interviene il processo di analisi ovvero un vostro paziente manda le foto e nel caso di virtual check c'è l'intelligente artificiale che subentra e fa l'analisi my smile solo se effettivamente lo sto usando quindi solo se faccio partire l'applicazione solo se ho un paziente a cui ho fatto delle foto il monitoraggio anche questo abbiamo detto il monitoring full costa 9,90 euro e 6,93 euro in questo momento perché vogliamo fare il 30% di sconto se per un mese il paziente non fa niente perché magari dici guarda questo mese sto bene non mi interessa essere monitorato questa piccola fit di 9,90 euro 7 euro non viene addebitato a nessuno perché non interviene nessuno quindi sono tutti servizi a consumo li paghi solo se li usi per cui effettivamente come dire non c'è un impegno temporale cioè quello che è la nostra idea è semplicemente provatela un mese due mesi tre mesi stoppate cioè si può fare qualsiasi cosa parliamo di servizi servizi che secondo noi in questo momento possono fare differenza possono differenziarvi nell'offerta dei vostri pazienti possono sicuramente ottimizzare dei flussi di lavoro in studio per cui è un'opportunità secondo noi che in questo momento va presa molto in considerazione concludo con qualche punto diciamo che siamo convinti che la telemedicina oggi aiuta aiuta perché come ho detto prima inizialmente parlavo di a distanza quindi sicurezza sanitaria ma anche sicurezza economica la digitalizzazione oggi è uno strumento che facilita la comunicazione col paziente è uno strumento di marketing che coinvolge tutti coinvolge il paziente coinvolge il team coinvolge tutto lo studio in qualche modo siamo sicuri che è un modo per incrementare non solo il numero dei pazienti ma anche il numero dei trattamenti se volete fare attività su pazienti che sono già nel vostro portafoglio quindi non fare attività extra sicuramente è un modo per proporre nuovi trattamenti sbiancamenti igiene trattamenti che ne so anche con gli allenatori questo trattamento che mi venga a mente è possibile farlo sugli stessi pazienti e come ho detto più volte gestire il passatemi il termine il traffico in studio mi permette di ottimizzare quella che è la mia agenda perché in questo momento è fondamentale è fondamentale sapere chi arriva a studio e quando arriva in studio è il motivo per cui arriva in studio tutto questo non può portare altro che al fatturato anche al momento di fatturato quindi il mio suggerimento in questo momento è questo lo strumento vital check con la campagna virtual check in questo momento può aiutarvi tantissimo come avete visto questo è semplice da utilizzare è un investimento di 200 euro 209 euro di cui siamo convinti che non vi penterete per cui pensateci pensateci anche fin da stasera fin da domani nel momento in cui volete essere in qualche modo contattati noi ci saremo ora vi lancio l'ultimo sondaggio credo che sia arrivato sì ok in questo momento credo che visto che siamo alla fine perché vorrei semplicemente lasciarvi con una frase che è una frase che noi abbiamo utilizzato in questo momento di comunicazione e poi passiamo alla fase delle domande che Francesca come sta andando le domande siamo circa al 37% chiedo a tutti di visualizzare lo schermo così potete vedere il sondaggio e rispondere tra qualche secondo lo chiudiamo grazie a tutti sono arrivate delle domande sì sono arrivate delle domande ad alcune insieme a Francesco Gusmini che è in supporto al webinar abbiamo già risposto nel frattempo ce ne faccio un'altra una domanda che viene posta da Silvia Silvia chiede come ci si regola rispetto al problema privacy del paziente non esiste nessun tipo di problema semplicemente perché nel momento in cui il paziente sottoscrive a queste cose avete visto che legge il consenso informato la prova per cui sul virtual check è guidato nella gestione del dato i dati poi fisicamente risentono su dei server che devono soddisfare i requisiti del GDPR per cui nemmeno questo è un problema per cui effettivamente in questo momento questo è sotto il cappello della diciamo della normativa europea per cui nessun problema ok nel frattempo volevo dare una risposta perché più persone non riescono non riescono a rispondere al sondaggio probabilmente non riescono se stanno lavorando vedendo il webinar da mobile l'invito se hanno voglia di esprimere la loro preferenza sì ma non ora e no scrivendolo nella chat così noi ne prendiamo nota sì l'ultimo semplicemente questo sondaggio è semplicemente volevamo sapere quanto effettivamente siete interessati ad iniziare ad usare il DENTUO questo tipo di soluzione per cui per noi è fondamentale per cominciare subito un'attività insieme a voi per affrontare questo momento che ripeto ci ha messo tutti in difficoltà sia gli studi clinici gli studi medici ma anche noi come azienda che effettivamente abbiamo dovuto rivoluzionare il nostro modo di lavorare e ci siamo inventati nuovi modi di lavorare anche con questi tipi di strumenti che stiamo utilizzando in questo momento il webinar non era una cosa che utilizzavamo con estremo preferenze però effettivamente siamo arrivati a rimettersi in gioco però vogliamo partire con lo stesso entusiasmo che avevamo a febbraio e questa stessa cosa è che vogliamo fare con voi ok lo chiudo chiudo il sondaggio lo condivido vedo che il 50% delle persone che hanno risposto effettivamente è interessato quindi comincieremo subito un'attività di comunicazione con queste persone vorrei lasciarvi con una frase poi lasciamo uno spazio di domande questo è il nostro come dire il nostro mantra stai vicino ai toi pazienti anche da lontano vi leggo questa conclusione perché ripeto a noi ci sta molto a cuore sappiamo quali sono le sfide di oggi ma al tempo stesso possiamo offrire una soluzione opportuna facciamo appello al vostro senso di responsabilità nei confronti dei pazienti del team del vostro team e soprattutto della vostra professione per oggi il virus ha sicuramente il sopravvento ma non siete indifesi perché Strauman sta accanto a voi vi lascio tutto il tempo per le domande sono qui a completa disposizione scusate ma c'è ancora il sondaggio in visibilità ok visto che abbiamo già risposto a un utente che ha fatto questa domanda ma forse è importante ripeterlo per chi si è collegato dopo qualcuno ha chiesto se è necessario che il paziente scarichi un'app forse è bene ricordare che è semplicemente un link inserito all'interno di un sito web dipende a che cosa l'applicazione che deve scaricarsi il paziente sul suo smartphone è il monitoraggio il virtual check non serve niente se volete torno qui effettivamente lo rivediamo insieme velocemente virtual check cosa serve? serve semplicemente scusate che è il virtual check serve semplicemente è un link come diceva la Francesca che fa a terra per entrare su una pagina web serve solo un cellulare che fa delle foto perché io voglio caricare delle foto quello che faccio in studio serve un'applicazione tutte le applicazioni che sono disponibili nel mondo then to go nei vostri smartphone le trovate sotto then to go by Strauman se dentro l'Apple Store per esempio digitate then to go by Strauman trovate tre applicazioni sono tutte applicazioni sono due che stanno in studio quella che è vital check questo perché effettivamente come ho detto prima qui si prevedeva che fino ad aprile questa fosse l'analisi dello stato vitale del paziente che il paziente lo faccia in studio quindi nel momento in cui il paziente arriva in studio la prima volta la prima visita gli potevo far fare questo tipo di 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 triage mentre era in sala d'attisa così che il medico successivamente si sarebbe confrontato con il paziente con uno strumento in mano di un report oggettivo in mano con questo periodo cosa abbiamo fatto qui si faceva in studio a casa si fa solo col cellulare non serve niente gli ho fatto vedere prima che con il link si atterra su una pagina quel link si può mettere dove volete voi si va su una pagina ci sono dei pulsantini che fanno caricare delle foto se lo faccio attraverso lo smartphone posso fare anche le foto in diretta clicco sul più aggiungo la foto e faccio la foto direttamente da far acquisire alla mia pagina web quindi qui sul virtual check non serve nessun tipo di applicazione da parte del paziente il paziente dovrà scaricare sull'applicazione invece quando è monitorato quindi ha già cominciato il trattamento a quel punto il paziente andrà a casa con il suo scan box il suo free box e diremo a lui di scaricare sull'applicazione e questa applicazione comincerà a funzionare quando lo decidete voi perché il paziente deve ricevere un codice che gli attiva quella applicazione affinché possa cominciare il monitoraggio spero di aver risposto c'è una domanda di Paola che chiede per avere un check quanto è il costo totale? non ho capito cos'è il check per avere un check quanto è il costo totale poi Paola ha specificato a partire da credo vuole sapere qual è il costo iniziale per iniziare vi faccio vedere torniamo qui così lo vediamo insieme offerta questo è l'epilogo virtual check visual check è quello che vital check è quello che effettivamente fa il triage lo può fare in studio piuttosto che lo fa a casa sono 209 euro in questo momento mensili fino a 200 scansioni my smile sono questi qui sotto qui se volete potete farvi anche lo screenshot cioè lo strumento webinar go to webinar mi permette di fare una fotografia di quello che state vedendo così che vi rimane quello che effettivamente vi sto dicendo spero che sia questa la domanda che mi aveva fatto la Paola scusate i costi sono IVA compreso più IVA no sono da IVA sono tutti i servizi IVA è al 22% al momento Francesco non ci sono altre domande a molte domande abbiamo già risposto nella chat perfetto ho visto una domanda da parte di Grazia vorrei sapere gentilmente se alla fine dell'abbonamento i dati ci vengono restituiti i dati rimangono sempre nel criscotto se il dottore non fa niente il criscotto rimane a lui lui avrà il suo accesso e rimarrà tutto nel suo criscotto non pagherà più niente perché effettivamente non ci sarà più nessun tipo lui può disattivare tutti i monitoraggi ad un certo punto per farvi vedere qui sono dentro il dental monitoring se io ho qui delle nuove azioni se io faccio interrompo il monitoraggio mi rimane tutto qui dentro il mio criscotto il paziente non può più fare niente perché non può mandare più niente però tutti i dati rimangono qui dentro qui rimangono dentro io qui effettivamente vediamo comunque qui rimangono tutte le foto effettivamente questa vorrei farvi vedere qualcosa di più qui fa qualcosa qui ciò possiamo vedere i pazienti monitorati pazienti pazienti non monitorati perché magari ho interrotto il monitoraggio qui c'ho la parte delle delle notifiche perché effettivamente qui ho tutte le volte che succede qualche cosa per il medio piuttosto che per lo staff lo staff succede qualcosa qui per esempio questo paziente deve essere ancora attivato in questo momento ho fatto solo l'inserimento di un paziente non sta succedendo niente nessuno paga niente ripeto qui se apro le foto di questo di questo personaggio qui ho tutte le foto qui dentro sono rimaste qui dentro queste qui sono delle precedenti scansioni sono qui a sinistra rimane tutto nel scotto del dottore non si perde niente e qui eventualmente rimane l'ultima scansione che ha fatto per il filmatino di quello che ha fatto non so cosa si possa vedere perché roba vecchia niente qui rimane la scansione finale che ha fatto il paziente questa se volete ve la posso vedere attraverso un altro un altro c'è qualcosa qui di monitorato archiviati ultima scansione e qui rimane per esempio la scansione il filmatino della scansione che fa il paziente quando effettivamente questa rimane sia sul scotto del dottore ma questa scansione rimane anche dentro l'applicazione dello smartphone del paziente non si perde niente Francesco fanno una domanda chiedono se dal cruscotto si possono scaricare le foto ed inserirle nel gestionale di qua sì in quello che è questa prima visita qui se andiamo a vedere le foto scarica foto e il dottore si può mettere queste foto dove vuole pensate a questo qui quello che quello a cui vorrei in qualche modo che a voi stesse a cuore è proprio questo questo virtual check se qualcuno di voi se in questo momento è stata ancora in linea vuole provare con se stesso se è d'accordo a fornire l'indizio lo facciamo insieme in questo momento perché come dire io posso tutte le volte questa pagina qui la posso sempre modificare qui posso scrivere per esempio studio medico pinco pinco pallino posso personalizzare qui e c'è una cosa interessante che volevo dirvi in questo momento se qualcuno è ancora collegato potrebbe essere interessante il momento delle notifiche aspettate qui ho la possibilità di dire all'applicazione guarda è arrivato perché effettivamente se voi in questo momento pensate di fare una campagna verso i vostri pazienti non è che potete tutte le volte andare a verificare se qualche paziente va risposto però potete fare potete attivare questo affinché magari ricevere attraverso un sms ok c'è uno screening nuovo nel frattempo un paziente ha scritto ha manato le sue foto l'intelligenza artificiale ha fatto il suo report vai a controllarlo e mi arriva un messaggio sul cellulare piuttosto che per email e soprattutto qui la parte sotto nel momento in cui comincia la comunicazione possa attivare la possibilità di richiedere una protezione dell'appuntamento online ovvero quando il paziente riceve il suo report compare qui in basso a destra un pop up dove effettivamente il paziente può dire sono disponibili a venire in studio il 31 di maggio piuttosto che il 7 di giugno e lui dà dei suggerimenti e comincia la comunicazione dove va la comunicazione sui pazienti si apre un paziente qui qui c'è una timeline ora qui c'è una timeline dell'attività effettivamente mi dicono come le sto facendo ci sono delle comunicazioni che ho fatto con il paziente mi comprenono qui quindi come dire riesco a monitorare la comunicazione stando davanti a un pc stando seduto a un tavolino e mantenendo come dire motivato il paziente Francesco ancora una domanda sulla privacy ancora Silvia chiedo scusa ma GDPR prevede il diritto all'obbligo dei dati quindi come si assicura che le foto che il paziente ha mandato se ho capito bene le foto sono su un sito Strauman sono su un server in America la verità è questo che i siti che sono gestiti da dental scusate i server che sono gestiti da dental monitoring perché questa è una piattaforma di dental monitoring sono in America risiedono lì possono stare lì per secondo l'ormativa legata alla gestione dei dati devono stare lì fermi per 5 anni e la cosa interessante visto che c'è di mezzo in quel caso lì anche l'FDA che nel momento in cui io per qualsiasi motivo decido di non andare più utilizzare più questo strumento ma voglio che ne so riattivarlo dopo due anni per cui i pazienti magari sono passati più anni di quanto non l'ho richiamati posso sempre chiederlo di ricaricarmi e li rivedo nel mio cruscotto sono ovviamente file criptati perché questa è la indicazione che abbiamo quindi foto criptate file criptati che risiedono su server in america ok un'altra domanda che può essere interessante di loredana quali sono i vantaggi del vostro virtual check versus foto fatte dal paziente e vi è antecipa tramite whatsapp la struttura della comunicazione se io sto utilizzando questo tipo di strumento qui che è il mio virtual check piuttosto virtual check ho un linguaggio semplice da condividere col paziente perché parlerò solo dell'allenamento dei denti solute gengivale piuttosto che dentale ho la possibilità di condividere delle opzioni di trattamento le foto sono semplicemente se voglio utilizzare le foto posso utilizzare il monitoraggio che abbiamo visto prima in light però anche in quel caso che cosa c'è in più c'è un conto che sono delle foto così in maniera diretta un conto è monitorarle con confronto con le foto che sono messe nelle stesse posizioni la stessa una parte lato destro sinistra frontale il monitoraggio viene fatto in maniera parallelo in questo caso parlava del virtual check la differenza è quella che vedete allora con whatsapp devo fare io l'analisi di quello che sto vedendo qui mi sta aiutando l'intelligenza artificiale ho argomenti semplici da condividere col paziente gli condivido tutto questo io qui se faccio condivido report mando questo stesso report che vedo io al paziente con whatsapp lo devo spiegare lo devo autoscrivere lo devo chiamare in questo caso invece gli mando un report il report è una cosa di oggettivo se poi gli dico guarda questo è un report fatto da anticiensi artificiali io poi la cosa importante quello che dicevo è che sul l'overjet per esempio in questo caso no perché qui ho tutte cose positive questo è un paziente estremamente come dire bravo prendiamo un caso per esempio questo che è disponibile comunque qui in questo caso cosa c'è di importante che lui mi ha identificato un affollamento che cosa condivido il paziente che cos'è l'affollamento e dove l'ho verificato ancora l'oggettività del risultato gli sto spiegando qui che cos'è non ci bisogna quindi che lo chiami ma lui lo può leggere il paziente lo può leggere e lo può verificare nella sua bocca ho fatto un'associazione uno a uno sul problema e là dove l'ho trovato questo è il grosso vantaggio di questo tipo di soluzione e poi ancora ripeto il linguaggio utilizzato è un linguaggio semplice che è comunque di facile interpretazione da parte del paziente vediamo un caso forse dove c'è ci sono io condiviso col paziente nel mio caso per esempio qui vedete che ho nelle attività mi è stata mandata la mail dove effettivamente io posso vedere il report che vede il medico negli esami qui ho delle parti rosse che sono legate all'affollamento diciamo superiore questa volta anche in questo caso ripeto il paziente legge di cosa stiamo parlando e vede dov'è che si è verificato l'affollamento quindi ho come dire l'intelligenza artificiale che mi ha fotografato e il paziente vede la trasparenza di quello di cui sta parlando qui vuol dire ripeto strutturare un protocollo di comunicazione affinché sia più efficace possibile questi a tutti gli effetti sono strumenti di comunicazione e di marketing l'obiettivo è coinvolgere il paziente con cose più realistiche possibili e questo lo ha tutti gli effetti Francesco c'è un'altra domanda sì va bene qui ultimissima riprendendo sempre la questione privacy sempre Silvia diceva scusate ma io intendevo se le foto che il paziente mi ha inviato siano cancellabili cioè per motivi della privacy cioè se il paziente a questo punto dice ho diritto all'oblio me le potete cancellare si può fare non credo che lo possa fare cioè non credo no non credo non lo può fare il medico il medico deve scrivere a Dan2Go o scrive a noi noi entramo come un super account e il super account può fare qualsiasi cosa sui pazienti e sul dottore può cancellare il medico può mettere un stand by può eliminare le foto può fare qualsiasi cosa il medico da solo non lo può fare perché non le può gestire l'autonomia però può chiedere che vengano cancellate ultimissima pensate Giuseppe pensate che bisogna proporlo come servizio a pagamento o come mezzo di marketing allora secondo noi è un servizio che non deve gravare sul paziente anche perché se parliamo di monitoraggio abbiamo visto che 80 euro all'anno non credo che non possa essere come ho detto anche prima il supporto per il cellulare piuttosto più bocca sono 38 euro non credo che 120 euro non possano non possono farsi non si possono immergere in un trattamento più complesso per cui secondo noi è un servizio che può offrire il cliente al suo paziente come differenzazione il paziente va a casa e dice non lo pago niente ma il mio medico mi sta seguendo da casa e poi pensate che la fee di 7 euro piuttosto di 10 euro piuttosto di 15 euro e il supporto per il cellulare vada come dire vada fatto comparire come voci in una fattura piuttosto in un preventivo di spesa questo è più un discorso vostro però quello che mi interessa è che voi vi differenziate con strumenti nuovi personalmente abbiamo visto che altri altri vostri colleghi non lo fanno pagare perché se pensate che nasce per l'ortodonzia invisibile un trattamento per l'ortodonzia invisibile può costare 2, 3, 4 mila euro come dire immergere quelle 100 euro all'anno in un trattamento da 3 mila euro credo che non scosti tanto l'impatto economico mentre il paziente nota la differenza perché come dire beneficia ad un servizio che non tutti hanno poi come dire questi sono strumenti di marketing ho parlato sempre di analisi di foto non mi avete mai sentito parlare di diagnosi l'analisi la fate voi questo migliora la comunicazione coinvolge il paziente lo seguo da lontano all'occorrenza lo faccio arrivare in studio e lì faccio diagnosi qui devo devo semplicemente coinvolgerlo devo riportare da me è importante che il paziente torni in studio lo devo far tornare in studio per parlare con lui lo devo rimotivare lo devo riacquistare fiducia l'avete abbandonato il paziente per due mesi qualcuno per tre mesi qualcuno non è stato abbandonato ma ha preso paura è rimasto a casa deve riacquistare fiducia in voi per cui questo è lo strumento migliore oggi per farlo ok io sono le otto credo essere una di scena per tutti volevo ringraziarvi per la partecipazione visto che siete ancora molti numerosi noi siamo completamente a disposizione per approfondimenti per delle demo specifiche per partire e ripeto gli strumenti sono molto semplici a utilizzare cioè nella fase iniziale bastano veramente tre o quattro bottoni cioè una piccola formazione per voi di un'ora è più che sufficiente per rendervi subito ben operativi mezz'ora siamo già pronti anche gli studi dove effettivamente la tecnologia non è come dire molto utilizzata però questi sono strumenti che sono alla portata di tutti per cui è come dire è un'opportunità questa che se non è accolta io a questo punto vi ringrazio ancora se avete bisogno scrivete noi ci siamo stiamo a Manchester stiamo con voi vicino a voi e ai vostri pazienti grazie ancora e buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti